In Italia abbiamo circa 35% della popolazione con percentuali del 10% di obesità e 25% di sovrappeso, con un gradiente nord-sud, quindi l'obesità e le malattie correlate, perché la legge parla anche di malattie correlate all'obesità, cioè diabete, malattie cardiovascolari, malattie broncopolmonari, cancro, patologie osteoarticolari, sono patologie che sono sempre più crescenti, ma sono sempre più in aumento nella parte sud dell'Italia. Di fatto l'Italia ha riconosciuto nel 2019 l'obesità come malattia cronica, quindi come malattia da curare, evidentemente curare l'obesità significa curare la madre delle vere più importanti malattie dell'epoca moderna. Il disegno di legge che in questo momento è fermo alla Commissione Affari Sociali della Camera, che è un disegno di legge che è stato depositato dicembre 2022, quindi un iter abbastanza lungo, prevede una possibilità di poter dare le prestazioni diagnostiche e terapeutiche come LEA, come livelli essenziali di assistenza, quindi gratuiti, ai soggetti obesi. È una legge naturalmente di un grande rilievo, perché significa poter dare la possibilità di fatto a tutti di potersi curare. Di fatto oggi i farmaci antiobesità, farmaci meravigliosi, perché riescono a equiparare quasi i risultati della chirurgia variatica in termini di dimagrimento, quindi farmaci che fanno sparire il diabete, fanno prevenire le malattie cardiovascolari, fanno prevenzione del cancro e potremo continuare. Per l'alto corso che hanno, effettivamente, possiamo andare a curare soltanto il ceto medio-alto, non potendo quindi far curare per mancanza di risorse economiche, proprio quella fascia di società, le fasce medio-bassi invece, che sono quelle nelle quali, soprattutto nelle quali alberga l'obesità, alberga il diabete, il cancro e le malattie cardiovascolari. Quindi è una legge molto importante che per esempio finalmente dà il dovere di togliere via dalle scuole, noi facciamo educazione sanitaria, educazione alimentare, però nelle scuole esistono le macchinette che vendono cibi spazzatura, per esempio è un argomento, uno dei capoversi della legge, che non avremo più queste macchinette con cibi spazzatura nelle scuole, dove si trova a fare invece una corretta educazione alimentare.